San Cataldo profonda commozione per la morte di un giovane Alessandro Tomasella per gravi ustioni triste fine per una cucciolata a canicassè ora si cerca di individuare la persona che ha abbandonato gli animali il pane sempre più caro anche a Caltanissetta un chilogrammo può costare fino a 4 euro Caltanissetta quartiere provvidenza protocollo d'intesa tra comune e rotari nuovo appuntamento con pedi pedi stasera alle ore 21 su tfn profonda commozione a San Cataldo e non solo per la morte di Alessandro Tomasella 31 anni a causa di gravi ustioni riportate nella serata di lunedì da una prima ricostruzione il giovane si trovava in contrada vassallaggi quando sarebbe stato raggiunto da una fiammata proveniente da un barbecue van alla corsa prima verso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e poi al Garibaldi di Catania Tomasella è deceduto poche ore dopo nel corso della notte ustionate ma in maniera meno grave anche altre due persone entrambe di San Cataldo che avrebbero preso parte alla stessa grigliata del caso si occupano i carabinieri della tenenza di San Cataldo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Tomasella sono stati espressi dal sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato in un post su facebook e da un massiccio numero di amici anche sulla sua stessa pagina social il giovane lascia una figlia la mamma Gabriella e il papà Filippo con il quale condivideva l'attività lavorativa un'azienda che vende macchine e attrezzature agricole alla zona industriale di Caltanissetta Tomasella appassionato di agricoltura cavalli e biciclette era apprezzato e stimato non solo a San Cataldo aveva molti amici anche a Caltanissetta che lo ricordano così un ragazzo pieno di vita sempre disponibile con gli altri dal sorriso contagioso capace di dare una grande carica di allegria alle persone che lo circondavano sulla sua pagina facebook aveva scritto le persone che non ridono non sono persone serie Controlli in quasi tutta la Sicilia da parte dei carabinieri del NAS per prevenire e contrastare la diffusione di alimenti contaminati dal batterio della listeria la cui diffusione ha recentemente causato diversi casi di intossicazione l'attività degli investigatori ha riguardato anche il territorio della provincia nissena in un salumifigio di Caltanissetta del quale è stata disposta la sospensione dell'attività oltre alle multe da diverse migliaia di euro per il titolare i militari hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie tanto da richiedere l'intervento del personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell'ASP i carabinieri quando hanno controllato lo stabilimento hanno trovato macchie di sporco residui alimentari tracce di sangue rappreso residui untuosi polvere e perfino larve di insetti in quasi tutta la superficie calpestabile della struttura nelle celle frigorifere utilizzate per contenere gli inzaccati pronti per la commercializzazione oltre a rilevare le medesime carenze igienico sanitarie sono stati trovati più di 500 kg di salumi di ogni tipo di cui gran parte con data di scadenza superata e altri erano privi di tracciabilità la merce è stata quindi sequestrata e sono stati prelevati dei campioni per verificare l'eventuale presenza del batterio della listeria i carabinieri del nas hanno anche sequestrato 75 kg di carne bovina a seguito di un altro controllo in un'azienda impegnata nel settore della lavorazione delle carni e di preparazioni gastronomiche la carne di bovino sequestrata aveva una data di scadenza superata e nonostante ciò secondo quanto accertato dagli investigatori era già confezionata e pronta per essere venduta in totale sono state 34 le attività controllate dai militari del nas di ragusa in diverse attività quali magellerie salumifiche di industrie conserviere di diverse province erano stati abbandonati e dentro uno scatolone sotto il sole i cuccioli trovati morti in avanzato stato di decomposizione dei volontari che poi insieme agli animalisti hanno messo una taglia di 1000 euro per avere informazioni accurate precise attendibili che possano fare risalire i responsabili del fatto l'abbandono di animali e nello specifico di cani areato previsto dal codice penale punito dalla legge e se da un lato le associazioni lamentano una poco adeguata soluzione al problema e chiedono da anni alle amministrazioni comunali e alla polizia municipale di pianificare controlli stringenti e maggiori misure di contrasto per la prevenzione degli abbandoni e per l'illusione dell'obbligo della microcippatura dei cani dall'altro proprio nei giorni scorsi in municipio si è tenuta una riunione tecnica tra il sindaco gammino l'assessore andaloro il dirigente tomasella i responsabili dell'ufficio randagismo il comandante della polizia municipale peruga i responsabili del servizio veterinario asp e i volontari animalisti accreditati le associazioni locali per fare il punto sulla situazione e trovare soluzioni tra le azioni che saranno attuate ci sarà l'avvio di controlli a tappeto in città con squadre miste formate da agenti della municipale e volontari esperti per la vigilanza sul rispetto delle norme di polizia zoofila e anti randagismo approvate due emozioni sul tema del randagismo a san cataldo durante il consiglio comunale del 27 ottobre firma dei consiglieri comunali del partito democratico san cataldese francesca cammarata e marco i mera ormai da diverso tempo in varie zone del centro abitato e della periferia circolano stabilmente cani di taglia media e grande che mettono in serio pericolo l'incolumità pubblica delle persone affermano così come si legge nel comunicato stampa inoltre il nostro ente sostiene un costo notevole per la custodia in canile la nuova legge regionale non basta proseguono per questo motivo abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi tempestivamente con ogni azione necessaria a risolvere il problema del randagismo collaborando con le associazioni animaliste approvando un apposito regolamento promuovendo le adozioni dei cani e istituendo la giornata del cucciolo ma anche errorando le sanzioni amministrative in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente propongono inoltre uno sgrabio fiscale per il cittadino e c'è una riduzione dell'atari fino a 600 euro all'anno per promuovere l'adozione e ridurre le presenze nel canile nonché buoni da spendere nei rivenditori di prodotti e servizi per la cura degli animali il cittadino dovrà però garantire un ambiente idoneo e le cure veterinari necessarie per tale motivo si prevederebbe anche un controllo annuale sulla condizione del cane adottato la lotta al randagismo è una battaglia culturale e queste iniziative possono aiutare a diffondere messaggi positivi alla popolazione esclamano quello che viene identificato comunemente come un problema concludono può trasformarsi in occasione per scoprire il rapporto tra l'uomo e gli animali portando allo stesso tempo benefici economici al comune e alla famiglia a partire dal 31 ottobre il pane a canicattisa era venduto 4 euro al chilogrammo l'annuncio arriva dai 26 panificatori della città a margine di un confronto una scelta dolorosa ma quasi obbligatoria a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia alcuni di loro si sono visti recapitare bollette superiori a 10.000 euro così si sono ritrovate ad un bivio chiudere le attività o aumentare il prezzo del pane intanto i panificatori della provincia di agrigento hanno annunciato la loro presenza alla manifestazione regionale che si terrà a palermo il prossimo 7 novembre per quanto riguarda calzanissetta abbiamo sentito il presidente della categoria panificatori antonio amico calzanissetta da circa un mese una buona parte dei nostri colleghi abbiamo aumentato il pane e anche noi abbiamo portato il pane a circa 4 euro al chilo anche se all'inizio abbiamo temporeggiato proprio per questi aumenti per vedere se il governo attuava qualche movimento dove ci poteva venire incontro a questa attività a questo aumento di queste di questa luce di questo gas di queste materie prime ma poi alla fine comunque abbiamo capito che non è una cosa di qualche mese e quindi siamo stati costretti a questi aumenti e mi auguro che questo nuovo governo possa subito adoperarsi per per venirci incontro per venirci incontro e non solo perché non solo ci aumentano scusate le materie le materie prime come ho già detto ma anche luce gas e speriamo che possa possano adeguarsi tutti i prezzi scadrà il 4 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande per accedere al contributo una tantum rivolta a soggetti e nuclei familiari residenti a san cataldo quale agevolazione per la tassa sui rifiuti per l'anno 2022 tale contributo sarà concesso nei limiti del tributo dovuto dal richiedente fino ad un massimo del 50 per cento relativamente sempre a quello dovuto per il 2022 e fino a concorrenza delle risorse disponibili verrà assegnato poi un punteggio in relazione alla situazione economica di chi presenta l'istanza infatti ad esempio verranno assegnati 11 punti per chi possiede un isè ordinario o corrente inferiore a 6 mila euro e poi ancora diversi punteggi in relazione anche alla composizione del nucleo familiare legata alla fascia di sé da 6.000 a 10.000 euro o da 10.000 a 17.000 euro più alto sarà il punteggio maggiore sarà il contributo riconosciuto si precisa infatti l'istanza potrà essere presentata tramite apposito modulo scaricabile dal sito del comune san cataldese indirizzato al settore terzo politiche sociali e inviato tramite posta elettronica certificata oppure consegnato a mano al protocollo dell'ente nella sede comunale un provvedimento che rientra tra le misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 rivolte alle utenze domestiche per l'anno 2022 che era stato annunciato qualche giorno fa anche dal sindaco di san cataldo giochino comparato e dall'assessore gabriele amico si tratta di un altro importante intervento per chi vive in una situazione di disagio hanno affermato una misura che consideriamo essenziale vista la crisi energetica e i danni della pandemia la nostra amministrazione ha chiare le difficoltà che stanno vivendo molti cittadini san cataldesi per questo in cima alle nostre priorità stiamo lavorando per creare opportunità di sostegno delle famiglie questo il primo di una serie di provvedimenti per provare a calmierare l'attuale crisi hanno aggiunto nelle prossime settimane pubblicheremo anche un bando per venire incontro ai cittadini che hanno delle difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche e idriche nei giorni scorsi in città è stato firmato un altro protocollo di intesa che riguarda il quartiere della provvidenza si tratta di un documento che sancisce una collaborazione tra il comune nissene Rotary Club di Caltanissetta per una condivisione di alcuni spazi comunali che si trovano nella piazzetta fuori dagli schemi un laboratorio di creatività che permetterà di sviluppare iniziative di promozione dal punto di vista culturale ma anche sociale e non solo un'esperienza che potrebbe ripetersi anche in vista di altre proposte da parte di ulteriori realtà del territorio anche in altri quartieri della città nella stessa giornata è stato scoperto il telo che celava la targa dedicata al progetto che il club nisseno avvia in questo spazio all'interno del quartiere provvidenza la casa di Polaris ricordando dunque il nome del fondatore del Rotary International condivideremo questo spazio con il Rotary e saremo qui presenti nel quartiere a disposizione della comunità i rotariani metteranno a servizio di chi ne ha più bisogno la pandemia ci ha mostrato che stanno aumentando enormemente le famiglie che hanno bisogno di qualunque cosa non soltanto di un supporto economico ma anche di un supporto morale di consulenza quindi lì i rotariani con le loro professionalità e con il loro tempo si metteranno a disposizione di queste famiglie bisognose ricolate da parrocchie e da altri enti che ci verranno la mano ex scuole rurali in vendita è stato pubblicato l'apposito avviso sul sito del comune nisseno relativa alle scuole rurali di proprietà comunale attraverso un'asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta da confrontare con il prezzo di gara che si svolgerà il 6 dicembre si tratta di nove lotti un immobile incontrato a Bulgarella uno incontrato a Misteci un fabbricato in contrada Favarella Bassa uno incontrato a Gesso Lungo un altro immobile incontrato a Grotta Rossa contrada San Martino Mimiani Bosco marcato da Rigo e la scuola elementare rurale di contrada Santa Lucia che come indicato nel documento risulterebbe demolita e dunque viene inserito soltanto il prezzo del terreno mentre negli altri casi tra fabbricato e terreno i costi totali variano da poco più di 36 mila euro sino a quasi 10 mila un singolo soggetto in possesso dei requisiti necessari può presentare offerta anche per più lotti si legge se ammesso alla gara può essere aggiudicatario anche di più lotti ove le sue offerte siano le migliori per il comune si parla anche delle destinazioni d'uso ammesse cioè quelle congruenti con le caratteristiche tipologiche di ciascun manufatto in particolare si precisa le scuole rurali in gran parte oggi inutilizzate devono essere destinate ad attrezzature scolastiche o a servizi pubblici di interesse collettivo la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 5 dicembre 2022 entro e non oltre le ore 12 le offerte dovranno pervenire o essere recapitate con qualsiasi mezzo al protocollo del comune di Caltanissetta di via duca degli abruzzi in busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante appena di esclusione il nominativo il domicilio del mittente la dicitura non aprire offerta relativa alla vendita di beni immobili di proprietà comunale mediante asta pubblica da consegnare all'ufficio patrimonio l'apertura dei plichi in forma pubblica poi avverrà il 6 dicembre alle ore 10 nella sede della direzione seconda servizi patrimoniali sempre in via duca degli abruzzi questa sera alle ore 21 su tfn nuovo appuntamento con pedi pedi vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda amici di pedi pedi ciao a tutti ed eccoci in un nuovo appuntamento come al solito siamo organizzatissimi in questa questa nuova edizione abbiamo alla camera numero uno ecco ve lo faccio pure vedere abbiamo già luca l'inossidabile pronto giallù caffè l'hai preso siamo carichi ok mentre la cameretta diciamo ecco ci sono io che cercherò di fare qualche qualche ripresa e oggi siamo siamo in un posto io penso che sia il posto più bello di calta insetta guardate dove siamo siamo proprio di fronte l'abbazia di santo spirito fantastico un posto magnifico quindi adesso entreremo abbiamo appuntamento con padre alessi che ci aspetta quindi noi entriamo vedete ci farà vedere delle cose incredibili delle cose uniche che solo pedi pedi vi farò vedere quindi vedete il nostro scopo è quello di farvi scoprire le storie personaggi i luoghi di calta insetta e molte volte noi abbiamo il vizio di passare davanti magari velocemente così con la macchina diciamo sì bello bello però non sappiamo cosa c'è dentro questo ve lo faremo scoprire ve lo faremo scoprire è troppo poco anzi se avete delle segnalazioni su cose particolari potete benissimo anche ci sono i nostri numeri sicuramente di sovrimpressione potete contattarci per tranquillamente buongiorno ci facciamo siamo in ritardo stamattina? noi in ritardo siamo già lui e ma io devo andare in galera fra un po' cioè va in galera? no sì 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 padre alessi non mi faccia preoccupare che vuol dire va in galera? in galera vado in servizio quindi ah quindi visitare ah giusto visitare starci starci stare con vabbè quindi visitare gli ammalati visitare i carcerati ci sta allora ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì sull'Italia di fatti ancora infiltrazioni di aria umida in quota anche se l'alta pressione momentaneamente di nuovo tornerà sul nostro paese da ovest però si preparerà un nuovo minimo di bassa pressione che attraverserà il nostro paese proprio nel fine di settimana venerdì nel dettaglio la mappa della nuvolosità della variabilità in particolar modo sulla Liguria di fatti in questa regione come notiamo nella prossima immagine ci sarà qualche precipitazione qualche locale rovescio nel dettaglio la mappa dell'Italia ci mostra una certa variabilità al nord con rischio qualche fenomeno sulla Liguria sporadici piovaschi sul nord-est altrove più sole al sud ritroveremo ancora temperature estive dettagli e approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Centrale Corso Umberto Servizio notturno Al Duomo Via Filippo Paladini Guì La nuova ど Cuarga Tutti Guarda Tri